Rappresenta un punto di partenza e un punto di svolta. Quando parliamo di lavoro, l'abbiamo detto, non parliamo del posto di lavoro, ma di un progetto, di un'opportunità. Il territorio offre tante opportunità e noi, come amministrazione comunale, insieme a tutti gli attori, siamo chiamati a mettere in rete e a creare questa opportunità. Il lavoro svolto dall'assessore Gentile, che ringrazia e da tutta l'amministrazione, ha questo modus operandi, chiamare insieme tutti gli attori e creare rete, creare le condizioni perché nessuno possa essere lasciato indietro, ma soprattutto dare spazio alla creatività e all'impresa. Questo sportello è un segnale molto decisivo per la nostra politica e il nostro nuovo modo di fare politica.